Niente a lungo salvezza, almeno per ora. La stagione dei Giallo-Blu si sta rivelando veramente complicata. Belluno-Sangheorgan termina 0-0 e così la compagine di Mister Vecchiato deve ancora rimandare l'appuntamento con la salvezza. Resta un piccolo margine sulla zona play-out, ma alle porte c'è un doppio scontro diretto delicatissimo. Montebelluna prima e Tamai poi. Contro gli altoatesini non brillano i padroni di casa, però le occasioni da gol ci sono. Eppure in qualche modo gli ospiti reggono e così a fine partita è evidente la delusione del tecnico bellunese. No, si doveva far meglio, si doveva avere un po' di qualità, si doveva far gol nelle 3-4 occasioni che abbiamo avuto, ma quando non ce la fai vuol dire che è mancato qualcosa, un po' di rabbia, un po' di qualità è mancata, vuol dire che abbiamo dei limiti e basta, bisogna fare punti più avanti. Domenica dunque trasferta a Montebelluna mentre per quanto riguarda l'Union Feltre, ora si può tranquillamente parlare di Sogno Serie C. Servirà naturalmente un miracolo, ma intanto la squadra a Verde Granata proverà a vincere anche la sfida casalinga contro l'Este.